Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare del drammatico incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita Manuel Cavanna, 23enne cortonese. Oggi un minuto di silenzio in ragione per ricordare il ragazzo. Un minuto di silenzio per ricordare Manuel Cavanna, il ragazzo di Cortona di appena 23 anni morto a Montepulciano colpito da una barra mentre stava lavorando a Durrimorchio. Sono iniziati così i lavori del Consiglio regionale con un momento di raccoglimento. Nel nostro paese si continua a morire di lavoro, non è accettabile, non è tollerabile, il lavoro è dignità e vita, è un'urgenza assoluta. Questo è il messaggio portato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Da ieri intanto sono due le persone indagate per omicidio colposo. La procura di Siena infatti ha aperto un'inchiesta per la morte di Manuel e la famiglia ha incaricato un legale per seguire gli sviluppi della vicenda. Oggi è il momento del dolore, del silenzio e del rispetto per un ragazzo che è morto sul lavoro senza aver compiuto 23 anni. Quanto a tutto il resto, quanto alla ricostruzione della dinamica, quanto alle eventuali responsabilità, io credo che sia opportuno attendere l'esito degli accertamenti che sono stati disposti e quindi delle indagini preliminari e poi dell'eventuale successivo processo che ci sarà. Prendiamo atto della scelta di grande trasparenza della procura che ha comunque fornito, vista la rilevanza pubblica del caso, diverse informazioni rispetto alle quali ci fermiamo. Ecco, credo che qualunque tipo di valutazione debba essere rimessa all'esito sia degli accertamenti disposti che poi delle indagini preliminari. Ora non possiamo dire altro se non stringersi intorno alla famiglia. La procura ha già disposto il sequestro probatorio dei mezzi e dell'aria. Gli inquirenti hanno spiegato ed aver deciso di non procedere con l'autopsia perché la causa della morte è apparsa subito certa. Pone dei punti fermi ma è necessario assolutamente che vengano approfonditi nel rispetto e nella garanzia di tutti ovviamente. È troppo presto per dare oggi giudizi, insomma. Prendiamo atto di quello che ci viene detto e soprattutto ricordiamo in questo momento la figura di un ragazzo che, ripeto, non aveva 23 anni. È stato giudicato stamani per direttissima il giovane che ha aggredito un carabiniere mordendogli un orecchio all'interno del centro commerciale di Tortaia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe infastidito dei clienti all'interno dello store da cui l'ha chiamata i militari. Il ventenne, originario del Ghana, è stato rimesso in libertà ma non potrà più mettere piede nel territorio provinciale. Le accuse per lui sono quelle di resistenza, violenza pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire le generalità. La giudice Ada Grignani ha disposto l'allontanamento e poi ha fissato la data della prossima udienza al 26 giugno prossimo. E adesso invece torniamo a parlare dei giardini della Porcinai. Tanta la rabbia e l'esasperazione di cittadini, residenti e commercianti che oggi sono andati in consiglio comunale. In quattro giorni ci sono state tre risse, due accoltolamenti, una risa, la notte un'altra risa, per cui la situazione è sfuggita di mano, ma è tanto tempo che lo diciamo. È diventata totalmente fuori controllo, io credo che sia il caso di intervenire prima che sia troppo tardi. Sale l'allarme sicurezza ai giardini del Porcinai, violente risse, un tentato omicidio, spaccio e degrado, quanto denunciano residenti e commercianti ormai da tempo. Istanze che adesso sono state portate direttamente a Palazzo Cavallo. Un gruppo di cittadini al motto di meno slogan più sicurezza hanno infatti presenziato al Consiglio Comunale per richiamare l'attenzione sull'escalation di episodi violenti nella zona. Hanno detto proprio che hanno anche paura passare di lì a volte, se si fa il buio, no io non vengo perché ho paura, perché c'è gente strana e quindi insomma non è una bella cosa per noi. Mancano tante cose, ci sarebbe da fare un lungo elenco, però per prima cosa i controlli. Le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti nei giorni scorsi avevano scritto anche al prefetto di Arezzo per chiedere un incontro programmato per la settimana successiva al 25 aprile. Io ci ho fatto caso che la mia clientela è diminuita, quasi dimezzata in un anno. In un momento come questo in cui investiamo, la città investe tanto in turismo e anche con buoni risultati obiettivamente. Avere un ingresso del genere in città è assurdo, risse, continui, schiamazzi, la gente si impaurisce. Io già da due mesi a questa parte percepisco sicuramente molta più insicurezza nei miei ospiti. L'area attende anche la riqualificazione come annunciato dalla stessa amministrazione comunale. Ma se la zona non viene riqualificata, quindi fatta vivere, è inutile, perché tanto le telecamere poi servono quei luci, lasciano il tempo che trovano, perché certa gente non ha niente da perdere. Bisogna trovare qualche soluzione a quei ragazzi che si riuniscono lì, perché è inutile fare la reabilitazione della zona se poi torneranno lì. Ecco, allora per loro c'è da inventare un programma, un'integrazione, un qualcosa che non facciano questa cosa lì per strada. E a Palazzo Cavallo sono arrivati anche i cittadini del neonato comitato per la salvaguardia degli alberi di piazza Saione, che hanno fatto sentire il proprio no al progetto di riqualificazione della piazza che prevede anche il taglio di alcuni alberi. Siamo in consiglio comunale per far sapere a tutti i consiglieri, soprattutto anche alla giunta e al sindaco, questa nostra contrarietà sia al progetto sia alla modalità con cui ci è stato presentato. Il neonato comitato cittadino per la salvaguardia degli alberi di piazza Saione è così salito sino a Palazzo Cavallo per ribadire la propria contrarietà al progetto dell'amministrazione comunale di rifacimento della piazza, a destare le maggiori perplessità nei residenti e commercianti del quartiere, l'aumento dei flussi di traffico ma soprattutto il taglio di alcuni alberi. Il progetto non ci piace perché è costosissimo, abbiamo visto il capitolo di spesa è altissimo, più di un milione di euro, 330 giorni, se va bene, di cantiere aperto, il taglio degli undici alberi, il roseto, la rimozione della statua e questo per far passare una strada che cambierà senso di marcia, da via Guelfa si metterà in via Vittorio Veneto dal lato del palazzo. Quindi ci saranno due strade che si metteranno in via Vittorio Veneto e via Vittorio Veneto ne risentirà perché molte sono quelle che si mettono e da lì si esce pochissimo. Anche se sono previsti, abbiamo visto nel disegno del progetto, dei piccoli alberelli, questi ci metteranno altri 20 anni per diventare grandi e con il cambiamento climatico che ormai è innegabile, secondo noi è folle tagliare degli alberi grandi, belli e sani per sostituirli con delle aiuole rasoterra. Già 500 le firme raccolte dal comitato. Firme cartacee, in questo momento c'è anche una petizione online sul sito, sulla piattaforma change.org, basta digitare Saione che compare e che si può firmare, chiediamo di firmare anche per fare pressione. Due temi, quelli di piazza Saione e giardini del Porcinaio, che sono entrati in consiglio comunale anche attraverso le interrogazioni dei consiglieri comunali. L'amministrazione per quanto riguarda le piante di Saione ha dichiarato che il progetto prevede una parte pedonale più ampia è che le piante attuali sono in una posizione da renderle potenzialmente pericolose e sono così previste le piantumazioni di nuovi alberi ad alto fusto e la delimitazione degli stalli del mercato. Per quanto riguarda invece il cantiere dei Porcinaio, partirà a giugno e nel frattempo ci sarà una triplice azione costituita dall'incremento dell'illuminazione dei giardini, la potatura degli alberi da una vigilanza continua affidata ad un soggetto privato. Voltiamo pagine, ci spostiamo a Civitella. Fervono infatti gli ultimi preparativi per l'arrivo del presidente Mattarella. Oggi c'è stata l'ultima riunione del Comitato Tecnico per la Sicurezza in Prefettura e ripercorriamo nel prossimo servizio come la memoria di questa strage nazifascista sia stata per tanti anni divisiva. Oggi per fortuna non lo è più. Non solo è stato detto ma è stato scritto da alcuni familiari delle vittime io non ho odiato i tedeschi ma ho odiato i partigiani. Questa qui è un'affermazione molto molto forte il che vuol dire che effettivamente secondo questi familiari delle vittime la colpa della strage di Civitella era indebitabile ai partigiani. Per tanti anni la strage per mano nazifascista di Civitella nella Retino che portò all'uccisione di 244 civili tra Civitella, Cornia e San Pancrazio è stata contraddistinta da una memoria divisa. La colpa veniva attribuita alla banda partigiana Renzino ma ciò non restituiva verità e dignità a chi aveva perso la vita in quel massacro. Il 18 giugno del 1944 il comandante Renzino insieme ad altri partigiani entra in un dopolavoro lì di Civitella dove c'erano quattro tedeschi che giocavano a carta e bevevano. In quell'occasione c'è stata l'uccisione di due tedeschi un terzo è stato ferito che è morto i giorni seguenti e il quarto invece è riuscito a salvarsi. Ecco, dopo è stato pensato che questo fosse l'elemento scatenante di questa rappresaglia. In realtà le rappresaglie tedesche avvenivano entro le 24 massimo 48 ore. A Civitella sono passati 11 giorni. Grazie al processo di La Spezia e ad una ricostruzione fatta di documenti e testimonianze che Santino Gallorini raccoglie e pubblica nel suo libro La memoria riunita, il partigiano Renzino e Civitella tra bugie, silenzi e verità oggi quella memoria non è più divisa. Quando è stato presentato il mio libro La memoria riunita la signora Eida Balò, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime e Edoardo Succhielli, il comandante partigiano Renzino, si sono abbracciati, si sono baciati perché praticamente condividevano quello che io avevo scritto nel mio libro e per cui hanno spento quello che erano stati i rancori che avevano diviso per tutti questi anni la memoria. Quella di Civitella fu una vera e propria azione militare voluta dalla divisione Hermann Göring per liberare dai partigiani il territorio dove di lì a pochi giorni si sarebbero attestati i soldati tedeschi. La mattina del 23 il comando tedesco ordina un attacco al comando partigiano di Montaltuzzo pare che siano stati 200 tedeschi e in quell'azione che dura dalle 8 fino verso le 14 ci furono parecchi tedeschi feriti, qualche tedesco morto ma neanche un partigiano catturato ucciso o ferito per cui è chiaro che per i tedeschi la banda partigiana era numerosissima e la banda Renzino non ha mai superato le 100 unità ma sicuramente i tedeschi pensavano che fossero centinaia di partigiani e questo si vede anche da alcuni documenti. Poi c'è un documento importante ritrovato dallo storico Carlo Gentile consulente del Tribunale Militare della Spezia all'archivio della Wehrmacht a Friburgo e in questo documento si vede che c'è un'area circoscritta che comprende Civitella, Cornia, San Pancrazio, Gebbia tutta la zona della strage e questa zona è etichettata zona di bande poi sotto c'è un piccolo appunto dove c'è scritto bonificata il 29 giugno ecco praticamente la strage del 29 giugno per i tedeschi non è altro che una bonifica dell'area dalla banda partigiana per quale motivo devono bonificare quest'area? La devono bonificare perché i tedeschi di lì a poco si dovranno attestare in quella che sarà definita la Arezzo Line che è una linea di difesa diciamo a valle della linea gotica che ancora non è pronta per ritardare l'avanzata degli alleati e questa linea Arezzo Line passa proprio per Civitella, San Pancrazio per cui i tedeschi non possono attestarsi lì e combattere contro gli alleati che vengono da sud e avere alle loro spalle una banda partigiana che loro credono che sia numerosissima praticamente sono quelle stragi che hanno colpito la popolazione durante le ultime fasi dell'occupazione tedesca perché poi di lì a poco i tedeschi si attesteranno sulla linea gotica e qui ad Arezzo ce ne sono state tante di stragi Civitella è quella più importante come numero di morte e di vittime ma ricordiamo che vicino ad Arezzo San Polo la Fontaccia, il Molinaccio Partina, Vallucciole Castelnuovo dei Sabbioni Cavriglia, Falsano nel Cortonese e altre più piccole con poche decine di morti ma comunque sia sempre stragi che hanno connotato quel periodo tragico della nostra storia Sarà Vittorio Sgarbi a condurre il primo evento del progetto Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana nato dall'intesa tra i comuni di Casigno Fiorentino Citerna, Monterchi e Sansepolcro e di cui la critico d'arte è un sostenitore Vittorio Sgarbi terrà la sua lezione venerdì 26 aprile alle 17.30 al Teatro Dante a Sansepolcro Città Patria del Maestro Piero della Francesca tra i protagonisti appunto di questo nuovo progetto di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dei quattro comuni tra Umbria e Toscana Ed è tutto pronto anche per l'edizione 2024 di Oro Arezzo in programma all'Arezzo Fiera e Congressi dall'11 al 14 maggio e anche quest'anno torna il concorso premier che celebra l'eccellenza produttiva e creativa del Made in Italy nella settore orafo argentiero e gioielliero giunto alla 33esima edizione Amore e bellezza il tema scelto quest'anno dalla direttore artistico Beppe Angiolini torna anche la categoria Talents per gli studenti delle scuole orate e sono stati invece i conflitti attualmente in corso alla centro dell'incontro con lo scrittore giornalista Alessandro Di Battista che alla teatro Pietro Aretino ha presentato il suo libro Scomode Verità Quando parlo di Scomode Verità parlo di un tentativo che credo anche che stia riuscendo di smentire la relazione dominante rispetto a quello che sta avvenendosi sia in Ucraina che in Palestina ovvero ci parla di uno scontro di civiltà bene contro il male in Ucraina di Zelensky paladino della libertà e l'Occidente che difende le libertà mondiali Putin pronta ad invadere la Polonia non è vero è una guerra come tutte che ha a che fare con la geopolitica con gli interessi economici strategici soprattutto nordamericani dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza è lo scrittore e giornalista Alessandro Di Battista a prendere posizione nei confronti dei conflitti attualmente in corso lo ha fatto ad Arezzo al teatro Pietro Aretino dove ha presentato il suo libro Scomode Verità proponendo un approfondimento sull'attuale situazione storica e geopolitica un incontro inserito tra le iniziative dell'Aclilife Festival La verità è che oggi Israele si sta comportando come uno stato terrorista che ha l'obiettivo di massacrare il popolo palestinese io prendo posizione con questo libro svelando documenti facendo smentire la narrazione dominante agli stessi politicanti che governano l'Europa o gli Stati Uniti d'America Le tragedie vengono da lontano a me quello che mi interessa oggi è il presente il presente in Ucraina si può risolvere soltanto attraverso un negoziato cioè negoziato significa do qualcosa in cambio di qualcos'altro per quanto riguarda invece la tragedia del popolo palestinese si può risolvere molto complicato però la prima cosa occorre pretendere un cessato il fuoco smettendo di armare Israele applicando delle sanzioni durissime per me è un buon cottaggio verso uno Stato che oggi è diventato uno Stato criminale e poi quello che dovrebbe fare il governo italiano è riconoscere lo Stato di Palestina neppure lo fa noi abbiamo creato un'associazione si chiama Schierarsi e stiamo raccogliendo le firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina che è già un obiettivo minimo un altro appuntamento con la cultura ad Arezzo nel quale è stata invece ripercorsa la storia del quotidiano L'Unità presentato un libro in città lo scrivo alla prima riga io prima di scrivere sull'Unità l'ho venduto anzi l'ho diffuso perché non si vendeva si diffondeva si andava dalle persone nelle case per parlare con le persone era quello che ti insegnava la politica non passava dall'edicole ma era vissuta principalmente sulla distribuzione dei militanti la domenica è il giorno della diffusione principale dell'Unità ma anche il giorno per raccogliere rumori e problemi del vivere quotidiano tu avevi un grande compito che era il compito di questo paese che cambiava di essere uno che dava opportunità nuove dava conoscenze nuove eccetera questo era poi il motore che spingeva a fare quello che si faceva quella militanza che era impegno gratuito era il febbraio del 1924 quando uscì il primo numero del quotidiano del partito comunista d'Italia un giornale fortemente voluto da Antonio Gramsci un secolo di storia ripercorsa adesso dal giornalista Roberto Roschiani nel suo libro l'Unità una storia tante storie pubblicato a 100 anni dalla fondazione presentato ad Arezzo nel corso dell'evento primaverile del Passioni Festival mi ha dato moltissimo io gli ho dato quello che avevo dal punto di vista dello sforzo della fatica ma sono in debito ecco io mi sento ancora in debito con questa vita che ci ho passato dentro Roberto Roscani giornalista di lungo corso all'interno del quotidiano e l'Unità attraverso una serie di racconti e testimonianze guida il lettore lungo un percorso ricco di avvenimenti lotte e personaggi che hanno caratterizzato la storia del giornale immancabile il ricordo di Enrico Berlinguer Berlinguer ha contato molto per l'Unità e probabilmente il modo in cui l'Unità ha raccontato la sua morte la sua agonia quei giorni è stato uno dei passaggi fondamentali per la trasformazione del giornale per trasformarlo in un giornale che veniva percepito come molto ufficiale molto come dire la linea un giornale invece che dava anche senso all'emotività delle persone i titoli ti vogliamo ben Enrico i titoli tutti addio non sono titoli normali funzionavano perché coglievano la stessa vibrazione che c'era tra le persone e stavolta non soltanto nel popolo comunista io credo in tutti gli italiani ci fosse emozione per quella morte e il saperla rendere saperla raccontare fu una delle cose credo migliori che abbiamo fatto saranno due giorni ricchi di iniziative quelli che si terranno il primo e il 2 maggio al parco del Pionta di Arezzo Vivi il Pionta si propone infatti come evento di festa e rigenerazione sociale urbana del parco luogo ricco di memorie storiche culturali e sociali per la città retina che ha bisogno di riappropriarsi di un'identità positiva e si arricchisce anche di una nuova iniziativa la progettualità sviluppata dalla rete del progetto GEM grazie alla collaborazione con l'associazione Sosta Palmizi Semilita Atelier ed altre associazioni del territorio aretino e adesso la pagina dello sport il basket giovanile italiano fa nuovamente tappa ad Arezzo con la 39esima edizione del trofeo Guidelli in città quasi 800 cestisti e cestiste Assessore da un punto di vista soprattutto del messaggio sportivo che esce tutti gli anni da questo trofeo è un bel esempio ma si è un bel esempio anche perché ad Arezzo il basket si chiama SBA e quindi ci sono tantissimi ragazzi che giocano in questo palazzetto di una struttura adiacente con le palestre comunali e che per questa occasione hanno modo di confrontarsi con i pari età di Italia che si vanno da Udine a Trapani quindi insomma un torneo veramente di importanza nazionale storico perché 39 edizioni è un numero non a caso insomma non ci si arriva a questo numero se non si fanno le cose per bene negli anni e anche dal punto di vista diciamo sociale è importante perché qua ci sarà una bellissima festa chiaramente il secondo giorno del torneo dove tutti i ragazzi saranno protagonisti saranno premiati e poi ovviamente il giorno dopo si darà anche onore al merito di chi primegge la suoi altri perché lo sport è importante tutto da due punti di vista tutti devono giocare tutti devono divertirsi però è anche giusto premiare chi ha quel pizzico in più che ti fa portare a casa una medaglia e ovviamente noi ci siamo per i ragazzi della sport Cianto bambini ragazzi ed adulti in Vasca al palazzetto del nuoto di Arezzo per la supervisione annuale di TMA Italia questa cooperativa orienta la propria attività verso le persone con disturbi dello spettro autistico con disturbi della neurosviluppo a cui vengono proposti percorsi in piscina che strutturati secondo i principi riabilitativi della terapia multisistemica in acqua sono finalizzati a favorire l'inclusione sociale e a portare benefici motori cognitivi comunicativi comportamentali ed emotivi le giornate di supervisione permettono di valutare anno dopo anno i progressi dei bambini con la certificazione di linee guida principi e obiettivi delle attività a cura degli psicoterapeuti iscritti nel registro nazionale degli operatori TMA e ad Arezzo invece sabato 4 domenica 5 maggio si svolgerà Run for Unity la staffetta sportiva mondiale che ogni prima domenica di maggio tocca centinaia di città nel mondo coinvolgendo migliaia di ragazzi attorno ad un solo obiettivo promuovere la pace e la fratellanza universale attraverso lo sport il gioco e le azioni concrete slogan 2024 e accendiamo la pace l'iniziativa è promossa ad Arezzo dal centro sportivo italiano e dal movimento dei focolari e si svolgerà al San Domenico Village questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci per l'attenzione per l'attenzione